Qual è il miglior compagno in pesca? L'ecoscandaglio, facilissimo. E la miglior compagna? Questo è già un po' più difficile. No, in realtà no. La cartografia. La cartografia è fondamentale in pesca. Ci serve per i mark, ci serve per la costa, per vedere i relitti, le secche, tutto quello che vogliamo. È diventata fondamentale, soprattutto da quando il GPS ci permette di essere molto precisi sulle posizioni. E Time Zero insieme con Furuno ha fatto un prodotto che è veramente incredibile. Riguarda la parte cartografica e riguarda la parte meteorologica. In realtà ci sono tante altre cose in più, però queste due cose sono quelle fondamentali che io uso tantissimo. Io uso TZ iBoat già da moltissimi anni, però l'ultima versione è veramente incredibile. Ha una cartografia che è eccezionale. È una cartografia proprietaria, quindi non si tratta né di Navionics né di C-Map. È una cosa che hanno proprio fatto loro. Ha un dettaglio, una visione che adesso vedrete. Tra poco vi farò vedere direttamente il programma. Questo è uno di due video, perché ci sarà anche sicuramente un secondo che riguarderà solo la parte meteo. In questo video voglio occuparmi soltanto della cartografia e non vi dirò neppure tutto, perché sennò diventerebbe veramente un video di oltre un'ora. Però vi potrete già fare un'idea di cos'è capace questo programma. Andiamo a vederlo insieme. Eccoci qui. Questo è il mio iPad e qui abbiamo anche il mio iPhone. Adesso vi faccio vedere il programma TZ iBoat direttamente dal vivo. Come vedete mi scrive Ciao Davide. Mi riconosce. Quindi faccio un login. In questo momento sto scaricando tutte le mie impostazioni del cloud, ma anche se non avessi il collegamento a internet sarebbe esattamente tutto uguale. E ovviamente questa cosa la posso fare anche sul mio iPhone. Facciamo così. Qui era già aperto, ma ve lo faccio vedere direttamente dall'apertura. Come vedete è la stessa cosa. Quindi questi programmi, questo programma anzi, si può utilizzare sia su tutti e due device, sia sull'iPhone che sull'iPad. Chiaramente l'iPad è tutto molto più grande, molto più facile, però il funzionamento è assolutamente uguale anche sull'iPhone. Io adesso per farvi vedere in dettaglio tutte le caratteristiche, utilizzerò solo l'iPad che è ovviamente uno schermo più grande, lo collegherò al computer e quindi riuscirete a vedere meglio cosa è in grado di fare questo programma che a mio avviso è incredibile. Con la freccina qui in alto si va praticamente a selezionare la posizione della barca. In questo momento questa è la zona dove abito io, dove c'è la mia casa, il mio ufficio, perché anche se sono all'interno sono riuscito a prendere comunque il segnale dei satelliti. E adesso andremo a vedere direttamente il nostro programma sullo schermo del computer. Ed ecco la nostra schermata sul nostro iPad. Beh, innanzitutto la fluidità è incredibile. Adesso vi farò vedere alcune cose. Non potrò andare nel dettaglio di tutto perché questo video diventerebbe come il solito un video di un'ora. Invece questo non vuole essere un video di un'ora. Voglio darvi delle indicazioni generali su alcune funzioni, quelle che io reputo le più importanti. Comunque vi assicuro che questo programma è capace a fare praticamente tutto. Anzi, probabilmente lo fa anche meglio rispetto ai classici programmi di cartografia che abbiamo sugli strumenti nella nostra imbarcazione. Beh, la prima cosa, la più importante è vedere un attimo appunto la carta. Cioè quanto riesce a essere definito e soprattutto facilmente interpretabile tutto quello che abbiamo sotto la superficie dell'acqua. Allora, per semplificare andrò a togliere le cose che non mi interessa in questo momento farvi vedere. Quindi tolgo i mark. Potrei anche togliere i nostri overlay. Quindi togliamo anche le immagini satellitari. E in questo momento abbiamo proprio solo cartografia con la parte della costa. Benissimo, questa è Trieste. Queste sono le due dighe esterne. Questa è punta sottile. Allora, andiamo a vedere cosa possiamo fare con questo programma. Qui in basso a sinistra abbiamo già delle cose semplici da attivare o disattivare. Per esempio, il numero di linee di battimetria. Può essere che a me non interessi in questo momento avere troppi dati sullo schermo perché magari sto facendo semplicemente navigazione. Con questo pulsante, chiamiamolo così, anche se è touch, posso andare a selezionare il grado di divisione delle linee di battimetria. Io lo uso di solito sul numero 3, è più che sufficiente. Come vedete, io allargando o stringendo la carta, vado a modificare i colori stessi della carta. Questo perché sempre qui a sinistra vedete questa barretta colorata e in questo momento mi sta segnando 0,25. Questo vuol dire che automaticamente il programma seleziona la misura minima che ha in questo momento sullo schermo fino alla misura massima di profondità intendo e mi fa vedere tutte le scale colore. Se io chiudo questa immagine, ovviamente arrivo a profondità più elevate, adesso qui siamo a 42 metri, e come vedete mi cambiano assolutamente i colori sulla carta. Più mi allontano, più i colori vengono automaticamente regolati su tutta la scala, su tutte le profondità visibili in questo momento a monitor. Ma nel nostro caso, in pesca, noi utilizzeremo sicuramente la mappa in un modo più ingrandito, chiamiamolo così, in grado di mettere in evidenza tutte le cose che ci servono a noi. E come vedete questa è già una bellissima cosa. Qui vi avevo già anticipato per un secondo, a destra abbiamo i layer. Praticamente in questa finestra io ho tutte le cose che posso andare a inserire o far vedere sulla carta. Posso scegliere anche una carta normale senza avere tutte le linee di battimetria. In questo caso userò una carta vettoriale normale e posso ovviamente anche togliere le colorazioni e la battimetria. Ed eccoci qua su una carta che è quella più comune, quella classica, quella che conosciamo tutti. Come vedete, veramente con pochi tocchi dello schermo sono in grado a fare tutto. Torniamo sul layer. Ritorno a mettere la colorazione di battimetria, perché secondo me è molto comoda. Posso far vedere, per esempio, posso inserire la traccia. In questo momento non so, in navigazione non serve. Le stazioni di marea, correnti di marea, i target. Dopo c'è una funzione anche molto interessante che è il dynamic mooring, che serve per quando ci si mette in rada, però è troppo specifica, quindi in questo momento l'assalto. Andiamo a vedere i dati utente. Abbiamo i marker, sicuramente fondamentali. Abbiamo le catture, anche questa è una funzione molto interessante che dopo vi mostro meglio. E le mie foto, che è quella cosa di cui vi parlavo prima. Allora, adesso ho inserito tutti i mark. Ovviamente io di mark ce ne ho parecchi, ma come vedete non c'è nessun problema per la gestione di questi mark. E adesso vi faccio vedere come funziona il discorso, le mie foto, gli screenshot di cui vi ho parlato. Come vedete io vado a selezionarla e se voglio posso andare a vedere lo screenshot che ho fatto quel giorno quando ero in pesca. Ovviamente questo è uno screenshot fatto sul mio TZ Touch 3, un 12 pollici e da menu ho semplicemente impostato la macchina che quando vado a toccarla con due dita faccio questo gesto e automaticamente questa mi crea lo screenshot. Lo salvo sul TZ Touch, la prima volta che collego il TZ Touch alla rete internet tramite il telefonino o un hotspot, lui mi scarica tutti i punti, tutte le tracce, tutte le rotte, tutte le foto sul cloud che è gratuito, non costa nulla e sono a disposizione per il mio programma di navigazione TZ iBoat. Quindi scaricando il programma mi ritrovo tutte queste informazioni sempre disponibili anche sul mio iPad in questo caso o iPhone come vi ho mostrato prima. E questo devo dire che è veramente molto molto utile perché mi permette di andare a fare dei ragionamenti o mostrare delle cose a degli amici che magari, ecco qua per esempio c'era una situazione interessante e voglio mostrarvela. Ora richiamo lo screenshot che compare in un attimo a video senza fare nessun tipo di esportazione, niente. Questi sono dati che sono presenti sul cloud. Quando io ho collegato il mio iPad al cloud lui automaticamente ha scaricato tutto e subito dopo sono diventati disponibili anche qui. Adesso vediamo come si va a inserire per esempio un mark. Ovviamente se l'imbarcazione è in movimento è ancora più semplice. Io adesso andrò a mettere un mark un po' a casaccio. Basta battere sullo schermo. Gli vado a dire nuovo mark. A questo punto posso selezionare il mark. Cambiare il simbolo. La macchina già me ne offre diversi. Posso cambiare il colore. Posso cambiare il colore. Mettiamolo rosso. Posso dirgli vai a per esempio. Semplicissimo. Faccio così. E lui mi crea già la rotta dal punto in cui mi trovo al mark. Questo programma non fa l'autorotta. Cioè non è in grado di gestire le profondità, le isole eccetera. Ma riesce comunque a darmi in una situazione normale la rotta, la distanza. Come vedete in linea d'aria ho 70 miglia. La bussola. Quanto tempo ci metterò ad arrivare alla velocità in cui magari mi sto muovendo in quel momento. Quindi anche per una navigazione è veramente molto molto comodo. Poi questo sistema può essere un backup ottimo. Oppure per chi ha già uno strumento multifunzione e usa anche il radar. Può usarlo abbinato al radar. Cioè uso il radar su una schermata. E questo lo uso come cartografia. Ci sono tanti modi diversi di poter fare e di poter utilizzare questo programma. O anche il 3D come avete visto. Ma adesso torniamo sulla cartografia. Torniamo sui layer. Qui c'è tutta una situazione meteo che andremo a fare nel prossimo video. Posso inserire le fotografie come vi ho già mostrato prima. Posso scegliere, questa è un'altra cosa importante, anche la modalità notte. Nel caso in cui stia navigando di notte con l'imbarcazione e non voglio avere troppa luce, che sia un telefono, che sia la cartografia normale, voi sapete che i nostri occhi hanno bisogno anche di più di un'ora per potersi abituare al buio. Quindi magari andare a vedere una cartografia sul telefono che ti illumina, ti abbaglia, non ti permette dopo di vedere nulla per parecchio tempo. Questo programma è in grado di gestire anche il crepuscolo e anche la notte. Io adesso proverò a mettere la notte. Vediamo se si riesce a vedere perché diventa veramente molto scuro. Notte. Ecco qua. Questa è la cartografia in uso notte, come vedete è quasi buio. Torniamo sul giorno, che è sicuramente il più importante. Qui in alto a sinistra ho un'altra funzione, cioè un altro tasto di accesso al menu, dove ho i miei dati, dati di accesso, eventualmente se faccio dei viaggi. E poi una cosa molto simpatica, molto funzionale è lo smart search, che mi permette di andare a cercare un qualcosa all'interno della mappa o delle cose che ho registrato io, molto facilmente. Per esempio Marina, selezionando questa funzione, mi mette in evidenza tutte le marine che ci sono nella zona. E posso andare anche a vedere subito dove si trova. Basta cliccarci sopra e mi centra immediatamente il posto. Altre funzioni che abbiamo qua è il fatto di poter andare a comprare nel negozio. Le cartografie, queste più evolute, sono a pagamento. Le cartografie base invece sono gratuite, quindi uno può usare anche il programma senza spendere nulla. Io consiglio comunque di prendere la carta della zona dove si va a navigare perché abbiamo tantissime informazioni in più. Abbiamo la possibilità di esportare molto facilmente tutti i nostri dati che abbiamo su questo programma, ma che sono gli stessi del TZ Touch. Come vedete addirittura se vado su esportare, lui mi chiede come voglio esportare. E posso farlo messanger, mail, airdrop. Veramente posso utilizzare qualsiasi sistema. È di una semplicità incredibile, disarmante. Posso anche andare a aggiungere un mark o una rotta direttamente, mettendoci direttamente l'altitudine e longitudine. E posso anche fare un'area, cosa interessantissima per chi fa le gare. Possiamo andare a disegnarci un'area sulla nostra cartografia in un modo veramente semplice, velocissimi, e averla sempre portata di mano sul telefono. Tante volte gli strumenti multifunzione non hanno questa funzionalità, ma per chi fa gare può essere veramente interessante. Questo programma, tra l'altro, gestisce anche il radar. Si può visualizzare sul nostro iPad o telefonino o smartphone. Quindi c'è anche questa funzionalità in più. Il collegamento viene tramite Wi-Fi, quindi non si hanno cavi, non bisogna inserire nessun cavo o fare nessun tipo di cablaggio. Basta alimentare il radar e avere l'iPhone o l'iPad. Questi si collegano e funziona tutto perfettamente. Questa è la presentazione del programma. Se siete interessati che vada a esplorare ancora di più tutte le funzionalità di questo programma, scrivetemelo nei commenti. Se vedo che c'è un certo interesse, sicuramente andrò a fare dei video specifici proprio su questo programma. Il prossimo che seguirà sarà proprio per la meteorologia, dove qui abbiamo fatto dei salti proprio da gigante. Il miglior programma di meteorologia, penso, in questo momento sul mercato. E a pagamento purtroppo si deve fare un abbonamento mensile, però devo dire che funziona molto bene, molto facilmente interpretabile e soprattutto funziona. Cioè si hanno dati come il vento, le onde, temperature, tantissime cose che funzionano veramente bene. Ci vediamo al prossimo video allora. Ciao a tutti.